L'accordo tra Alicost e Capaccio Pestum diventa realtà dopo Rimini a Londra il debutto del materiale promozionale anche di Costa Pestum insieme ad Alicost. E quale migliore occasione poteva esserci se non quella del VTM di Londra per annunciare al mondo, è il caso di dire, l'accordo tra due forti esponenti turistici. Da un lato l'Alicost quale compagnia di navigazione e quindi la compagnia che effettivamente traghetterà i turisti e non solo, nei bellissimi scenari della costiera cilentana. Certo, è una scommessa sul turismo, sul nuovo modo di vedere il turismo, un turismo che punta all'ecosostenibilità, un turismo che punta sulle vie del mare, le vie del mare per deconcentrare il traffico cittadino e per far vivere al meglio l'esperienza turistica a chi decide di recarsi nei territori campani. La fermata di Agropoli è quella che in certo qual modo sancisce l'accordo, sancisce un accordo imprenditoriale e dunque era il caso che Agropoli diventasse la fermata di Costa Pestum. Ma perché? Perché Agropoli è sintesi di storia, di cultura, di viaggio e noi siamo viaggio e cultura. Bisogna salutare con favore l'iniziativa di Costa Pestum. Tra l'altro Costa Pestum si inserisce a pieno titolo tra quelle iniziative, o per meglio dire tra quegli enti, quelle strutture, che devono necessariamente promuovere una parte del territorio che fino ad ora non ha avuto quell'attenzione che merita. perché di fatto il comune di Capaccio, i templi di Pestum sono la porta d'ingresso del Cilento e il Cilento è una di quelle straordinarie realtà campane a cui bisogna prestare la massima attenzione negli anni a venire. E la vostra iniziativa è quella di Costa Pestum, si inserisce e va in questa direzione. Grazie. 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 Grazie.